benvenuti a questa conferenza in cui tratteremo parleremo di come il feng shui può essere anche visto come riflessologia della nostra abitazione infatti molti di voi ne avranno sicuramente tante volte sentito parlare e tante volte vi avranno detto a in quell'area della casa è riflessa questo specifico ambito di vita bene in questa conferenza andiamo a scoprire che cosa c'è sotto cosa c'è sotto i punti riflessi nel feng shui ma prima di addentrarci così in fondo in questa materia perché tratteremo un tema che non è affatto un tema da principianti anche se sono sicura che tutti voi avete le capacità di comprendere quello che di cui andremo a parlare chiariamo subito che cos'è il feng shui che cos'è veramente beh possiamo dare una definizione molto chiara di feng shui dicendo che il feng shui si occupa di studiare gli effetti che a livello fisico e a livello psichico ha un determinato tipo di ambiente sull'uomo quindi l'ambiente sappiamo che ci influenza ha degli effetti su di noi come esseri umani sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista da un punto di vista psichico e il feng shui però non si limita a questo anzi la sua vera funzione non è soltanto quella di capire che tipo di effetto ci fa un determinato ambiente no il feng shui vuole costruire gli ambienti vuole definire descrivere e andare a mettere in ordine gli ambienti in modo tale che invino alla nostra mente gli stimoli giusti quelli di cui abbiamo bisogno abbiamo bisogno per raggiungere i nostri obiettivi quelli di cui abbiamo bisogno per stare bene nel nostro spazio da tanti e tanti punti di vista inoltre per fare feng shui devo puntualizzare alcune cosine la fede non serve e nel feng shui tutto ha una spiegazione ha una spiegazione scientifica o sperimentale molte sono le discipline le scienze che ci hanno dato oggi delle spiegazioni di principi di feng shui enunciati secoli fa dagli antichi maestri per cui davvero nel feng shui non bisogna credere bisogna sperimentare bisogna provare e bisogna cercare anche le spiegazioni inoltre nel feng shui non esistono delle vere e proprie ricette per cui in questo forse un pochino vi deluderò ma non è non è possibile avere delle ricette non posso dirvi dovete fare questo più questo per ottenere la felicità ecco no dobbiamo andare un pochino più in profondità inoltre non ci sono contraddizioni nel feng shui e soprattutto importante spiegare i perché ci tengo a dirlo anche perché sicuramente leggendo online leggendo sul web avrete già sentito di tutto e di più in merito al feng shui ma andiamo avanti e iniziamo a parlare veramente del nostro tema principale di questa conferenza e iniziamo a occuparci di feng shui come riflessologia riflessologia della casa e dobbiamo partire da da un assunto un assunto importante cioè nel fatto che noi da quando nasciamo e crescendo ci relazioniamo con nostro spazio sempre costantemente e ci relazioniamo con il nostro spazio tramite il corpo che abbiamo il corpo che ha una sua biologia uguale per tutti noi esseri umani e attraverso questa relazione del nostro corpo con lo spazio si formano in noi nella nostra mente delle mappe delle vere e proprie mappe mappe mentali per esempio quando impariamo a camminare e scopriamo che il nostro corpo è fatto per muoversi dal dietro verso l'avanti abbiamo acquisito non solo un concetto di spazio abbiamo acquisito anche un concetto di tempo perché prima eravamo dietro e dopo ci siamo ritrovati avanti e questa è una mappa mentale molto importante che ci conduce dritti dritti ai nostri punti riflessi di primo livello nel feng shui ma prima una precisazione le mappe mentali sono universali e specie specifiche vale a dire che sono uguali identiche per ognuno di noi qualsiasi sia la nostra provenienza geografica ma anche qualsiasi sia la nostra provenienza culturale inoltre sono alla base del feng shui le mappe mentali perché è proprio la materia di studio principale del feng shui e infine le mappe derivano dall'esperienza del nostro corpo nello spazio e spesso molto spesso come nell'esempio che vi ho appena fatto le mappe mentali mettono in relazione concetti di spazio e di tempo e la nostra casa proprio come il nostro corpo ha un davanti e un dietro e a livello di mappatura mentale che cosa accade che grazie a questa costituzione che appartiene tanto al nostro corpo quanto alla nostra abitazione si vengono a definire due grandi aree della nostra abitazione che sono esattamente il dietro e il davanti e alle quali naturalmente associamo anche i concetti di tempo che abbiamo appreso muovendoci nello spazio cioè il concetto di prima e il concetto di dopo eccoli qua in un'altra visione tutto ciò che si trova dietro esternamente alla nostra abitazione viene definito nel feng shui come l'area della tartaruga nera è un nome specifico un nome tradizionale che va a indicare però un primo grande punto riflesso quindi avremo nel retro la tal punto riflesso della tartaruga nera e avremo invece davanti il punto riflesso della fenice rossa ma riflesso di che cosa mi starete chiedendo ebbene nell'area retrostante la nostra abitazione troviamo il punto riflesso della salute della protezione del sostegno e della sicurezza ma tutto ciò che è associato al nostro passato noi lo proiettiamo dietro e quindi in quest'area in quest'area e associato a quest'area anche associata alla nostra famiglia famiglia d'origine ma anche i valori e la fiducia che riponiamo in noi stessi la capacità di accumulare risorse di metterle nello zainetto e ovviamente se dobbiamo parlare di parti del corpo non può che essere associata la schiena inoltre associato al concetto di salute protezione accudimento e sostegno abbiamo anche la figura della madre invece per quanto riguarda il punto riflesso della fenice rossa beh si trova ovviamente diametralmente opposto al punto della tartaruga nera e la avremo il punto riflesso del futuro del progresso perché stiamo guardando in avanti delle novità della nostra possibilità di crescita le nostre occasioni che incontreremo nella vita la libertà di movimento la capacità di creare ricchezza quindi di andare a procacciare la ricchezza ma anche la capacità di progettare il nostro futuro la lungimiranza e avremo il punto riflesso a livello di figura e quindi di persona o abitante di questa di struttura vedre avremo il punto riflesso del padre o per meglio dire di colui che si occupa di portare a casa la pagnotta e possiamo tranquillamente poi andare a espandere queste due aree e andare a coinvolgere in queste due aree che vedete qui in questa slide sono esterne all'abitazione possiamo espanderle per coinvolgere anche le due aree interne della nostra abitazione dove andremo ad associare le stesse qualità le stessi ambiti di vita per cui possiamo tranquillamente dire che le qualità dell'ambiente che troviamo esternamente e internamente la nostra abitazione in queste aree avranno influenza su questi punti riflessi cioè su tutto ciò che è associato a quest'area della nostra abitazione ma siccome abbiamo non solo un davanti e un dietro ma anche una destra e una sinistra che sostanzialmente conseguono una conseguenza della direzionalità i nostri animali o punti riflessi di primo livello non si concludono con tartaruga e fenice ma troveremo alla nell'area a sinistra della nostra abitazione il drago verde e nell'area a destra della nostra abitazione la tigre bianca questi sono i quattro animali del feng shui sono i primi quattro punti riflessi o punti riflessi di primo livello e vediamo un attimino allora che cosa sono associati i drago e tigre il drago è associato alla capacità di organizzare di gestire e ideare nuovi progetti di programmare alla capacità di agire di entrare in azione alla possibilità di sviluppo alla crescita anche finanziaria è associato al principio sessuale maschile alla virilità e agli aspetti maschili della psiche mentre è in generale potremmo dire che è associato all'emisfero sinistro mentre che dire della tigre bella tigre associata alle motività all'arte a portare a termine i progetti guardate che carino da una parte di iniziamo e dall'altra li portiamo a termine associata all'ispirazione all'intuizione alla femminilità e agli aspetti femminili della psiche infine anche all'emisfero destro e eccoli qua tutti insieme i nostri primi quattro punti riflessi dell'abitazione secondo il feng shui ma non ci fermiamo qui e sono sicura che voi avrete molto più facilmente sentito parlare di quelli che sono i punti riflessi di secondo livello che poi ci portano dritti dritti a discutere il famoso bagua nel feng shui bene ma prima di tutto chiariamo una cosa prima di fare entrare in campo il bagua prima di discutere anche questo concetto che è molto importante e di coinvolgere la direzionalità quindi le direzioni cardinali nel feng shui dobbiamo carire che i punti riflessi di secondo livello esattamente come i primi derivano dalle mappe mentali e da delle mappe mentali che sono strettamente collegate con il nostro ritmo circadiano cioè con il ritmo stagionale e giornaliero della secrezione ormonale del nostro corpo che dipende dalla relazione del corpo con la luce solare che cos'è il ritmo circadiano il ritmo circadiano è appunto un ritmo biologico e psicologico caratterizzato da un periodo di 24 ore che coinvolge l'equilibrio veglia sonno definisce le secrezioni ormonali in relazione alla luminosità della della giornata alla luminosità del sole nelle 24 ore definisce la temperatura corporea ma anche il ha influenza un'influenza molto importante sul sistema circolatorio oltre al ritmo circadiano ci sono altri ritmi settimanali mensili e stagionali che ognuno di voi sono certa ha provato mille e mille volte sulla propria pelle quindi che cos'è il ritmo circadiano è ciò che determina il nostro orologio interno ciò che ci dice quando svegliarci quando addormentarci che regola la nostra attività cerebrale ormonale la nostra rigenerazione cellulare le attività degli organi e tantissime altre cose e i punti riflessi di secondo livello dipendono proprio da questo quindi quando parliamo di direzioni nel feng shui stiamo parlando del unione di spazio e tempo ovvero stiamo parlando della posizione del sole che nell'arco della giornata illumina diverse aree della mia abitazione quindi stiamo parlando non tanto di direzioni geografiche quanto di posizione solare nell'arco di tempo di una giornata e ovviamente poi in ogni stagione ok quindi sappiamo per esempio che a mezzogiorno il sole è a sud che all'alba il sole sorge ad est al tramonto invece è a ovest e questi sono concetti base e sono concetti alla base della strutturazione del bagua che non è stato inventato e buttato lì così in maniera casuale ma deriva dallo studio profondo del comportamento umano e eccolo qua il nostro bagua il nostro bagua che cosa fa trasforma questa raggera circolare di movimento solare di tipo circolare ma il bagua lo trasforma visto che le nostre case solitamente hanno un andamento una forma facilmente riconducibile a un rettangolo o a un quadrato diciamo che col bagua andiamo a identificare le varie nove stanze e le varie direzioni perché ciascuna di questa stanza verrà illuminata in una specifica ora del giorno come faccio a disegnare il bagua ve lo dico subito prendo la planimetria della mia abitazione la circondo come ho fatto qui con il quadrato o il rettangolo più piccolo in cui io la posso iscrivere e poi la divido in nove settori proprio come se stessi giocando a tris e però poi devo andare avanti devo capire in che direzione si trova una mia stanza e come faccio beh mi metto al centro della mia abitazione prendo in mano una bussola potete scaricare l'app sul cellulare ce ne sono tantissime oppure va benissimo una qualsiasi bussola da orientini mi metto al centro della mia abitazione guardo lago che indicherà il nord ovviamente e in quella direzione si trova la stanza nord non devo e lo dico per chi ha già letto qualcosa di feng shui non devo orientare il bagua secondo la porta d'ingresso il bagua e le direzioni l'ho appena detto dipendono dalla posizione del sole quindi stiamo parlando di direzioni di tipo geografico quindi devo prendere la bussola e vedere dov'è il nord in quella direzione c'è la stanza nord benissimo vediamo che cosa è riflesso però in questi nove settori o nove palazzi come si chiamano nel feng shui e iniziamo dall'est perché è un nuovo inizio perché a est sorge il sole inizia una nuova giornata e proprio per questo a est è associato l'inizio di nuovi progetti nuovi inizi è associata alla possibilità di espansione sono associati anche eventi improvvisi vitalità ideazione creatività e a livello di membri della famiglia è associato il primo figlio maschio proseguiamo poi in senso orario come se stessimo rivivendo tutta una nuova giornata quindi seguiamo il percorso del sole e a sud est che cosa è riflesso a sud est riflessa la comunicazione la capacità di comunicare di espressione di movimento l'attività la ricchezza perché a sud est che in tarda mattinata che iniziano tutte le attività no la prosperità ed è associata la prima figlia femmina nelle stanze a sud invece che punti riflessi troviamo la comprensione la capacità di capire l'intelligenza la relazione con l'esterno con l'altro da sé e con ciò che c'è fuori dall'abitazione la fama la visibilità la possibilità di diventare famosi la seconda figlia femmina a livello di membri della famiglia a sud ovest sud ovest è uno dei palazzi molto chiacchierati nel feng shui perché a sud ovest troviamo il nutrimento troviamo il sostegno l'accoglienza la maturazione ma troviamo anche il punto riflesso della femmina dominante o della madre o capo famiglia femmina quindi è una stanza molto importante perché dal benessere dei capi famiglia dipende il benessere di tutta la famiglia nelle stanze a ovest che cosa troviamo invece troviamo il punto riflesso del compimento della capacità di concludere di portare a conclusione un qualsiasi progetto quindi la capacità anche di di raccontare di fare un po tirare un po le somme l'ispirazione la realizzazione e il punto riflesso della terza figlia femmina a nord ovest troviamo il giudizio la valutazione l'autocontrollo l'autostima e troviamo il capo famiglia maschio quindi un altro palazzo molto importante il punto appunto il punto riflesso del del capo famiglia maschio e del padre nelle stanze a nord invece troviamo il punto riflesso dell'istinto del subconscio stiamo parlando della notte fonda del buio quindi di ciò che non vediamo chiaramente di ciò che non con cui entriamo in difficilmente in contatto quindi inconscio subconscio istinto le nostre parti profonde e il secondo figlio maschio infine concludiamo questo giro della nostra abitazione con le stanze a nord est dove troviamo la punto riflesso del ciò che è onirico della connessione con altri mondi dell'esoterismo la meditazione la magia la spiritualità e il terzo figlio maschio ora vi chiederete è il centro beh il centro è un punto fondamentale perché è il punto da dove dove tutte le stanze trovano incontro possono incontrarsi quindi è il vero punto di snodo dell'abitazione ed è anche il punto di comunicazione tra tutte le varie funzioni quindi un po fa da perno di tutto quello che è di tutti quelli che sono i punti riflessi che abbiamo appunto qua elencato ed ecco qui che piano piano andando a lavorare sui punti riflessi di secondo livello abbiamo ridisegnato il bagua l'abbiamo ridisegnato probabilmente così come lo conoscete ma ora sapete quali sono le associazioni reali e non stupitevi più di tanto se quello che ho detto non lo ritroverete del tutto identico nei testi di feng shui che avete già letto in altri articoli perché purtroppo di bagua scorretti in giro se ne vedono tantissimi la cosa importante è chiedersi quando leggete un'associazione se questa ha un senso e ora potete farlo visto che ora sapete da che cosa derivano i punti riflessi di secondo livello bene non non sono finiti ovviamente nel feng shui ci sono moltissimi punti riflessi e mentre mentre la scuola degli animali studia i punti riflessi di primo livello il bagua con il bagua e la scuola dei trigrammi ci andiamo ad occupare dei punti riflessi di secondo livello la scuola dei trigrammi infatti di cui anche potete aver già sentito parlare studia l'influenza delle direzioni sulla vita dell'uomo l'influenza quindi dell'influenza solare del movimento solare sulla vita dell'uomo esistono diverse sequenze di trigrammi li trovate anche qui messi in vari modi alcune si occupano di ce ne esistono due in realtà la sequenza o mappa mentale del cielo anteriore che descrive il movimento del sole stagionale e giornaliero e divide le qualità solari in otto fasi e si occupa delle cause ok si occupa di ciò che sta agendo sulla nostra abitazione esiste poi invece una seconda sequenza che si occupa invece delle nostre attività umane che è quella più strettamente collegata a ciò che noi andiamo a fare durante la giornata siamo chiamati a fare durante la giornata e si occupa nello specifico questa seconda sequenza degli effetti della luce solare sull'uomo che cosa sono queste sequenze però sono anche qui non sono una serie di simboli e di segni messi e messi a caso disegnati a caso e ordinate a caso no sono delle mappe mentali che sono state decodificate utilizzando i trigrammi che sono dei simboli che le rappresentano e che in quanto tali in quanto mappe mentali anche loro sono universali e specie specifiche anche loro specie specifiche vuol dire che appartengono a tutti gli esseri umani appartengono alla nostra specie sono alla base del feng shui come tutte le altre mappe mentali e derivano anche queste dall'esperienza del corpo nello spazio e anche queste in modo particolare mettono in relazione i concetti di tempo e spazio quindi abbiamo capito che cosa significa lavorare con i punti riflessi nel feng shui significa lavorare con le mappe mentali significa conoscere e saper sfruttare quella che è la relazione tra le informazioni spaziali e le risposte biologiche psicologiche e comportamentali di noi esseri umani risposte che sono innate istintive e naturali fanno parte del nostro modo di essere della nostra struttura biologica quindi quando lavoriamo coi punti riflessi nel feng shui stiamo lavorando in modo davvero molto profondo ed è anche importante farlo in modo consapevole non in modo casuale senza buttarla un po la diciamo così bene io direi che vorrei lasciare un po di spazio alle domande magari non so anna mi puoi aiutare per favore sul ricapitolare le domande che ci sono state sì allora una domanda è di lorena ci chiede davanti della casa coincide col lato dove c'è la porta d'ingresso con la facciata più visibile al pubblico la allora no la facciata di un'abitazione non necessariamente è dove c'è la porta d'ingresso la facciata è il punto più aperto della nostra abitazione quella con il lato con il maggior numero di aperture un'altra domanda è da quale punto individua la posizione dei punti cardinali c'è presura dove prendo la misura dove prende la dove prende la misura mettiti al centro della tua abitazione con in mano una bussola e osserva dove lago indica il nord in quella direzione c'è la stanza nord o il palazzo nord vedrai che puoi anche fare in questo modo un trucchetto facile facile puoi stampare la planimetria della tua abitazione mettere la planimetria della tua abitazione al centro dell'abitazione e appoggiare al centro della planimetria una bussola ti indicherà uno dei nove settori che tu avrai già disegnato sulla tua planimetria e quello sarà il settore nord da lì in avanti girando in senso in senso orario puoi facilmente individuare tutte le direzioni bene invece donatella si è incuriosita diciamo sul concetto del centro della casa e voleva che lo approfondissi un pochino un po cosa corrisponde ecco il centro il centro è il luogo deputato alla comunicazione la comunicazione tra le varie funzioni della nostra abitazione ma la comunicazione anche fra le varie aree della nostra vita quindi ora il centro e le varie aree della vostra abitazione le potete già guardare con occhi diversi quindi il centro si dice nel fin sui e lo confermo è importante che sia aperto e libero proprio per permettere questa comunicazione tra le varie funzioni e tra i vari ambiti della nostra vita legge una domanda cosa succede sono una scala nel centro allora intanto assicurati che sia veramente al centro una volta che tu hai disegnato il bagua sulla tua abitazione perché potrebbe cadere su una linea del bagua quindi in quel caso non creerebbe nessun disturbo se fosse però proprio al centro è una particolare conformazione della tua abitazione e questo ha delle ha degli effetti come tutte le conformazioni ciascuna ciascuna caratteristica del nostro spazio ha degli effetti su di noi positivi o meno a seconda di quello che noi desideriamo raggiungere nella nostra vita una scala nel centro nello specifico porta a una può portare comunicazione alta allenante all'interno della famiglia quindi momenti in cui si comunica molto bene è momento in cui invece non si riesce bene per rimanere sul sul centro della casa ti riporto un'altra domanda che è relativa a questo che invece al centro un punto buio un corridoio senza finestra non è detto che il centro debba essere particolarmente luminoso anche questa non è una regola feng shui se senti che è troppo buio però si può ovviare a questo aiutandosi anche con della luce artificiale o con il colore insomma il fatto è che la cosa importante è che il centro resti un punto di snodo un punto di comunicazione con le altre stanze domanda di claudia fatto prima è con le strepe quindi la giusta posizione delle stanze in base al bagua ma non esiste una giusta posizione delle stanze in base al bagua la camera da letto sarà dov'è e la cucina sarà dov'è e via discorrendo bisogna pensare in modo molto differente nel feng shui questo è un modo in cui siamo stati invitati a pensare nel corso degli anni quando si parla di feng shui però non è così la funzione che tu hai scelto essere in una determinata direzione da delle caratteristiche particolari a quegli ambiti della tua vita funziona di più in questo modo cerchiamo di fare una lettura al contrario perché non esiste il giusto e sbagliato in assoluto quindi io non posso dire mettiamo tutte le cucine a est e mettiamo tutti i bagni a nord non può essere non può funzionare in questo modo poi stefania chiede se un appartamento ha solo un lato di apertura esistono lo stesso le altre aree? si esistono comunque tutte sarà più facile individuare qual è la direzione fronte e retro ci scrive ho una mappa della casa molto strana a forma di coltello a rettangolo che a sinistra presenta anche un buco non è un rettangolo corretto come posizionare il bagua? quindi insomma quando le planimetrie hanno una geometria un po' particolare quando hanno una geometria un po' particolare bisogna disegnare il rettangolo o il quadrato più piccolo possibile che possa includere tutta la planimetria dell'abitazione poi si andranno a suddividere le nove aree e poi da lì vedremo che alcune aree cadono esternamente all'abitazione altre cadono internamente ma il bagua non si distorce poi invece Daniela ci chiede è possibile associare ogni sezione ad ogni sezione un organo specifico della persona visto che l'abitazione è il nostro corpo espanso? sì ma questi punti riflessi che noi abbiamo visto sono ancora dei punti riflessi appunto di primo e secondo livello che individuano delle macro aree delle aree molto grandi dell'abitazione ci sono punti riflessi molto più specifici scusa il gioco di parole direi più puntuali e certo si lavora anche con le varie aree del corpo con i vari organi anche assolutamente sì mentre Eli ci chiede se esiste un palazzo connesso al campo lavorativo quindi ritorniamo un po' agli argomenti della conferenza dipende da che lavoro fai questa è la vera risposta se fai un lavoro che ha a che vedere con la visibilità la pubblicità la moda il marketing tutte queste cose qui l'essere l'essere visti la fama allora sarà il sud se fai un lavoro dove c'è moltissima competizione quindi bisogna lavorare sull'istinto di sopravvivenza sostanzialmente nella competizione estrema allora sarà il nord se il tuo è un lavoro di comunicazione sarà allora il sud est perché è associato appunto alla comunicazione se invece è un lavoro di startup aziendali sarà l'est perché si occupa dei nuovi inizi quindi bisogna andare a lavorare un pochettino più in profondità non si può dire la carriera e basta in senso generale perché ogni settore ogni ambito anche lavorativo ha delle sue caratteristiche che noi dobbiamo andare poi a ritrovare come attivazione fisica in noi per poter lavorare bene e dobbiamo andare quindi a cercare quel palazzo quell'area della casa dove abbiamo quel tipo di attivazione che ci serve per fare bene quella attività è così che funziona in realtà il Feng Shui andare a cercare nell'ambiente il messaggio l'attivazione giusta a livello fisico e psichico per poter far bene con meno fatica una determinata attività che ci interessa portare avanti Ilaria ci chiede posso usare colori freddi tinte acqua a sud? Allora non è detto questa è un'altra grande è un'altra grande verità nel Feng Shui a volte mi è capitato anche di vedere case dove una parete era metà verde e metà arancione perché lì finiva il palazzo est e iniziava il palazzo sud est quindi veniva fatto il verde est e l'arancione a sud est ecco no non è necessario fare queste cose soprattutto se non vi piacciono a livello di colore non è vero che bisogna mettere il rosso a sud il blu perché il sud è associato al fuoco e quindi mettiamo dell'altro fuoco il rosso anche esso associato al fuoco e il blu a nord e via discorrendo diciamo che per non incorrere in errori cerchiamo di evitare di mettere proprio le qualità in scontro cioè cerchiamo di evitare di mettere il blu a sud e il rosso a nord puntiamo invece a delle altre tonalità visto che di colori ce ne sono tantissimi questo ci serve a evitare macro errori poi ci sono delle tecniche specifiche di Feng Shui che ci aiutano a definire esattamente qual è il miglior colore da inserire in un determinato ambiente e queste tecniche spesso tengono in considerazione i punti riflessi di secondo livello quindi quelle che abbiamo visto durante questa conferenza insieme a quelle di terzo livello cioè alle funzioni abitative e dalla congiunzione di queste due conoscenze si viene a determinare anche qual è il colore migliore da inserire in un determinato ambiente però diciamo che a questo livello per non fare errori evitiamo di mettere proprio due colori il colore in scontro con la qualità di quel palazzo invece Claudia ci dice tra l'altro anche Sara ci ha fatto una domanda simile la terrazza privata va inclusa nella mappa bagua mentre Sara ci chiedeva il garage va incluso nella mappa bagua quindi insomma queste aree un po' esterne no no li lasciamo fuori quando disegniamo il bagua ok mentre Cinzia dice deve essere un quadrato perfetto un rettangolo in realtà no un quadrato o un rettangolo ma deve avere i lati ortogonali cioè o un quadrato o un rettangolo più allungato più corto il più piccolo in cui puoi contenere tutta la palimetria della tua abitazione se avete delle curiosità feng shui di questo tipo noi abbiamo attivato ormai da qualche mese la creative feng shui community che è un gruppo riservato chiuso su facebook dove potete chiedere di iscrivervi e dove potete continuare a chiacchierare con noi potete continuare a farci tutte le vostre domande e le quali possiamo rispondere più facilmente anche perché si possono postare fotografie per cui non sapete se avete disegnato bene il bagua della vostra abitazione fate una foto alla planimetria e postatecela sulla creative feng shui community dove troverete anche i post di tanti altri che che vi partecipano e quindi domanda dopo domanda andiamo a riscoprire questa bellissima disciplina che è il feng shui e un'altra cosa che potete fare che vi invito a fare se non l'avete ancora fatto è iscrivervi alla nostra newsletter grazie alla quale potrete essere informati sulla partenza magari sulla partenza di altre nuove conferenze gratuite come questa ma anche potete ricevere tutte le informazioni sui nostri corsi ma soprattutto tramite la newsletter inviamo moltissimi articoli che parlano di feng shui e approfondiscono di volta in volta diverse tematiche benissimo se vi interessano potete informarvi chiaramente sul nostro sito che è www.creativefeng shui.it anche in merito a tutti i corsi workshop in partenza e a come funzionano le consulenze di feng shui sul sito anche lì trovate veramente tantissimi tantissimi articoli che parlano di feng shui a in maniera molto approfondita di tante tematiche differenti per cui ve lo ripeto il sito è www.creativefeng shui.it benissimo intanto vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi questa sera per aver partecipato a questa conferenza grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti.